Il Tavagnacco chiude il campionato con una vittoria per 5-0 contro il Vittorio Veneto. La squadra di Fattore saluta la Serie A dopo una sola stagione. Anche in caso di vittoria le Venete sarebbero comunque retrocesse visto il successo dell'Userna Bari. Dopo sei minuti il Tavagnacco potrebbe già passare in vantaggio con Tuttino che sotto misura calza debolmente. Poi ci prova Destabile in girata di prima sul cross dalla destra di Sardu, palla fuori. Il Tavagnacco passa in vantaggio con Elisa Camporese sul perfetto lancio di Tuttino. La giocatrice giallo-blu incrocia il tiro che va a spegnersi in fondo alla rete. Regginato non può nulla. Al trentesimo ci prova Zuliani con un pallonetto dalla distanza con Regginato che esce dall'area. La difesa chiude in angolo. Dalla bandierina parte il cross che vale il 2-0 firmato proprio da Maria Zuliani che mette a segno l'ottavo gol in questa stagione. Al trentasettesimo il direttore di gara giudica da rigore il fallo di Virgili su Parisi. Sulla palla si presenta per la battuta la stessa Alice Parisi che mette il pallone vicino al palo. Regginato intuisce ma non ci arriva. Abbiamo fatto le ultime tre partite lavorando con un nuovo mister. Comunque tre partite importanti perché contro due pretendenti al titolo e il vittorio oggi che doveva salvarsi. Quindi sicuramente positive tutte e tre. Magari sabato scorso è mancato un po' per il caldo, un po' perché comunque il Mozzani che è una squadra ostica soprattutto sul suo campo. Credo che oggi sia venuto fuori un po' il lavoro che anche se solo in tre settimane abbiamo fatto con il nuovo allenatore. Al trentottesimo entra nella lista dei marcatori anche Sofia del Stabile che riceve palla in aria. Poi dall'altezza del dischetto sigla il quarto gol della partita e la sua personale nona rete stagionale. Nella ripresa Camporese c'entra la traversa con un bel tiro dal limite e Regginato riesce a toccare. Il Tavagnaco continua a spingere e va vicino al quinto gol con Zuliani che lanciati in aria si presenta davanti a Regginato che respinge il tiro ravvicinato. Al trentatresimo ci prova anche Parisi, tiro a giro che Regginato in tuffo va a deviare per salvare la propria porta. C'è ancora Camporese a sfiorare il gol di testa, il pallone si spegne sul fondo. Dall'altra parte ci prova in contropiede Cisotto, la velocissima giocatrice del Vittorio Veneto chiama in causa Ferroli. Il definitivo 5-0 porta la firma di Chiara Paroni che mette a segno il primo gol in stagione al termine di una bella azione personale. È stata una bella partita, penso che Tavagnaco sia partito bene anche se magari i primi minuti come ha detto il mister potevamo avere un po' più di coraggio però poi insomma dopo il primo e soprattutto il secondo gol siamo venute fuori molto bene e penso che abbiamo fatto una bella partita. Il Tavagnaco vince 5-0 contro il Vittorio Veneto che saluta la Serie A. Siamo saliti l'anno scorso della Serie B, quest'anno abbiamo ritoccato un po' l'organico ma non più di tanto perché quelle che ha meritato la Serie B doveva fare la Serie A. Dopo noi siamo una società novella diciamo quindi le giocatrici sono quasi tutte del nostro vivaio e di questo ne siamo fieri. Grazie per le ragazze quelle da Pordenone o da Udine che sono venute a darci una mano e volevo fare un complimento a tutte le ragazze perché hanno lottato tutta la stagione e le ringrazio tutte quante. Io ho cercato di portare qualcosa di diverso e io spero che questo possa essere servito a loro e poi insomma quello che sarà nel futuro non lo so però io mi sono trovato sicuramente benissimo anche e soprattutto nel lavoro che è quello al quale tengo di più. È stata sicuramente emozionante perché mi ha fatto delle grandissime partite specialmente con le grandi del campionato è un po' altalenante però è anche vero che vedere giocare oggi è un piacere le ragazze veramente fare squadra fino all'ultimo minuto dell'ultima partita così è veramente con orgoglio di queste ragazze che hanno saputo comunque anche dopo magari situazioni più difficili nel senso che sotto le aspettative se volete però vedere come anche l'ultimo giorno hanno trovato questa ecrinta questa determinazione. Complimenti alle ragazze.